Facciamo il punto della situazione sull'emergenza coronavirus alla fine di questa settimana molto intensa. Partiamo dai numeri aggiornati alla serata di ieri sera, quindi alla serata di sabato. In provincia di Lodi i casi sono 1693 più 96, in provincia di Milano i casi sono 4672 più 868. È stata una settimana nella quale purtroppo i contagi a Milano e provincia sono cresciuti in maniera significativa. Abbiamo provato a allungare il grafico che da qualche giorno vi proponiamo, spero si riesca a vedere bene. La curva più bassa, quella in giallo, indica il trend dei contagi in provincia di Lodi. La curva invece che schizza verso l'alto in verde indica il trend dei contagi in provincia di Milano e entrambe partono da martedì 11 e arrivano a sabato 21. Proprio alla luce anche di questi dati preoccupanti che arrivano da Milano, ieri quindi sabato Fontana ha firmato un'ordinanza che stringe ulteriormente le maglie e il premier Conte ha parlato ieri sera dopo le 23, annunciando la chiusura totale in tutta Italia delle attività produttive, rimarranno aperti solo i servizi essenziali tra gli altri alimentari, poste, banche e edicole. Ancora qualche indicazione dal nostro territorio, vi do i numeri dei contagi in alcuni dei comuni, Lodi è arrivata a contare 286 contagi, un numero davvero elevato. Codogno 264, Castiglione 164, Casal Pusterlengo 157. Stiamo ovviamente già lavorando al numero che troverete domani in edicola e all'edicola digitale sul nostro sito. Ricordo il tempo nuovo la rubrica nella quale i ragazzi delle scuole superiori ci raccontano appunto come stanno vivendo questa emergenza e segnalo domani un gran bel fondo di uno psicologo, il dottor Costa, che prova a ragionare proprio su come i nostri ragazzi, i nostri adolescenti possono affrontare in famiglia questo periodo che obiettivamente passerà alla storia.